La tutela della vita umana, le migrazioni e il narcotraffico sono stati i temi al centro del colloquio tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica di Costa Rica, Luis Guillermo Solis Rivera, ricevuto questa mattina in Vaticano. Durante i cordiali colloqui, riferisce la Sala Stampa Vaticana, si è accennato alle buone relazioni tra la Santa Sede e il Costa Rica ed è stato espresso apprezzamento per il contributo che la Chiesa offre specialmente nell'ambito dell'educazione, della salute, della promozione dei valori umani e spirituali e nel campo delle attività caritative.